Eccoci e bentornati sul mio canale Gioco delle armi, Call of Duty Advanced Warfare, partita in live, andiamo Oh cacchio, subito, subito, subito uno, subito pericolo, subito pericolo E ovviamente questo, non mi è morto, non mi è morto il secondo Perfetto, mi è morto però il... Forza, e che cavolo, mannaggia la miseria Mannaggia la tua miseria, mannaggia Mannaggia, mannaggia, mannaggia Aspetta, quello dove va? Quello dove è andato? Guardate come spunta qualcuno dietro e muoio, eh Guardate come spunta qualcuno dietro e muoio Forza, muori, va Perfetto, andiamo Tre pari Attenzione a qualcuno che sale E... Oh, 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 regà, regà, regà Porco cane, regà Ah già Siete matti, eh Siete matti, siete matti Chi è che mi spara? Mannaggia, me so sentito un headshot alla capoccia Me so sentito un headshot alla capoccezza Aspetta, qualcuno sta qui Qualcuno sta qui Forza, muori AK-12 Aspetta, qualcuno l'ha ucciso quello Cacchio sta... Oh, 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 questo da dove cacchio è passato Incredibile Quello da dove cacchio era passato Mica l'ho capito, SN6 Andiamo Questa sarà difficile Vedo che sono molto in gambe I ragazzi qua Aspetta Aspetta Che cacchio Oh, 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 mamma mia Che pericolo Attenzione Scappa da qua Perché ovviamente mi stava per mirare Mi stava per mirare Allora, andiamo qua e facciamo il giro laterale Facciamo il giro laterale Forza, qua c'è sta qualcuno Vediamo un po' Eccolo, 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 eccolo Perfetto Questo se sta a fare tutta la partita là Se sta a fare tutta la partita là Il tizio sta uno là sopra Aspetta che Aspetta che sta Uno lì Piano, piano, piano Piano, regà Piano, regà No, 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 no Come cacchio faccio La MR1 Sì, la MR1 La MR9 è difficile come arma Corsa, vieni qua E dai Ma perché non mi deve killà certe armi Io non riesco a capire Poi dite perché non ci voglio giocare a certe modalità Cacchio stai Non è il fatto che non ci voglio giocare Nel senso che me c'è pure diverto Però il problema È che purtroppo Io con la connessione che ho Tante partite non posso fare La differenza Perché non mi muoiono Lo vedete pure voi Cerco di spararci con le armi Nel senso ma Il problema è sempre il solito Con certe armi proprio Non mi vengono giù Ne manco a A pagargli oro A pagargli oro A pagargli oro Questo mi ha superato Stava pure lui con la MK14 C'è la miseria Mannaggia Mannaggia Perché perdo tempo Tanto per queste Forza Muori Perfetto Vieni qua Vieni qua Dove sei? Dove sei? Dove sei? Aspetta Aspetta che ce ne stava uno Ce ne stava uno Dove cacchio è andato? Dove è andato il tizio? Dove sei andato? Aspetta qua Dove sta? Dove sta? Guarda Cocane Dove è andato? Oh No No Oh Mamma mia Pericolo Pericolo No no E dai Ti ho sparato Bello di casa Ti ho sparato Bello di casa E non sei morto Forza qua Benissimo S12 S12 Forza Oh no Me l'ha rubato Regà Me l'ha rubato Me l'ha rubato Me l'ha rubato Cacchio Gli ho sparato prima io Mi doveva dare pure Il cambio arma a me Mi doveva dare anche Il cambio arma a me Porco cane Dove è andato quello? Me lo so perso Oh 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 Dove sta? Dove sei? Dove sei? Eccolo uno No 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 Preso Preso SXMG Quelli devastanti E mi ha ammazzato con la pistoletta Mi ha ammazzato con la pistoletta Ma questi Sono le armi più orrende che ci stanno Veramente Non capisco Forza Forza Muori E muori Che cavolo Oh Se facevo lo kill Con le PM3 Penso che mi sarei proprio Non lo so Avrei fatto tipo festa Fino a domani Fino a domani Avrei fatto festa Se uccidevo quello Però ero già abbastanza danneggiato Su 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 Dai guarda Ma non muoiono Me lo dai il simbolo Eh guarda quello No Una cosa assurda Mi ha ammazzato con le PM3 Da una distanza in mane E a me ovviamente non è morto Vorrei sapere come Come cacchio ha fatto A non prendermi Su 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 Questo lagga Questo lagga Questo lagga Ed è morto Non so come cacchio Stato possibile Vieni qua Mamma mia Numero Numero con il cieco Ragazzi Un colpo morto Non mi dite come è stato possibile Però è stato possibile Si Sta qualcuno che mi ha pollato Sopra la capoccia Sopra la capoccia Aspetta Forza Via 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 che stanno a sparare con la balestra Stanno a cercare di fare L'ultima kill Forza No 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 E dai PDV Che proprio fai schifo Maledetto Armetta del cavolo Che ovviamente Non mi dai per niente soddisfazione Oh Quacchio Uno qua Aspetta Aspetta Dove è andato quello Dove è andato Dove è andato Questo non riesce a fare l'ultima con la balestra Ma la riuscirà a fare sicuramente Qualcun altro Perché Lo riprende Forza Forza E muori Oh no 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 Ah già Quello comunque l'ho fatto Retrocede Ma almeno ogni tanto il tasto Della coltellata Mi funge Aspetta che ci sta Questo qui Che non muore Per niente al mondo Per niente al mondo E muori Perfetto Forza 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 Oh Bello Preso Mamma mia Incredibile Colpa alla testa Con cosa Stava a fa Stava a fa questa Aspetta Aspetta Forza Forza No 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 Ucciso Vabbè Rega Terzi Partita non male Molto divertente Molto veloce E' stata molto carina Dai Spero che il video Sia stato di vostro gradimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale Mettete un bel mi piace E Seguitemi su twitter E ci vediamo Con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale Ecco qua spiegato C'avevo due tacche gialle Al prossimo video